Sono già iniziati i lavori di estensione della rete di distribuzione del gas metano ad Ispica. L'impresa incaricata da Italgas Rati, la società concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale in città, ha già aperto il cantiere che in prima battuta toccherà la zona di Via Rosa a fronte a Returrisi, per poi spostarsi nelle altre non servite. Si compie così un'opera avviata dalla precedente amministrazione comunale. Il primo atto formale risale alla fine del 2018 con l'approvazione in consiglio comunale di una mozione di indirizzo a firma dei capigruppo della maggioranza di allora. Fui il primo firmatario come capogruppo del PD. Il 5 aprile successivo accompagna il sindaco Pierenzo Muraglia, l'assessore ai lavori pubblici Michele Fronterre e il geometra Giuseppe Caschetto dell'ufficio tecnico comunale a Little Gas Rati di Siracusa, dove, planimetria alla mano, rappresentammo l'esigenza di centinaia di famiglie di cui l'amministrazione si faceva carico. Fummo molto convincenti, visto che l'idea cominciò a prendere forma. Seguirono infatti la redazione del progetto e la ricerca delle fonti di finanziamento per fare in modo che non un euro venisse richiesto ai residenti. Il tutto grazie all'impegno di Italgas Rati, che recepì le sollecitazioni dell'Aggiunta, nella quale nel frattempo ero entrato, venendomi assegnata fra le altre, proprio la delega dei servizi a rete. L'ultimo atto formale è la deliberazione di giunta del 23 settembre scorso, che sostanzialmente ha chiuso la parte burocratica dell'operazione. Oggi, come suol dirsi, il primo colpo di piccone. È una delle tante opere che vedono la luce dopo mesi e anni di lavoro. Altre ne seguiranno e sarà per noi, ex amministratori, una bella soddisfazione l'avere fatto delle cose senza guardare alle scadenze elettorali, ma all'interesse della città. Ispica lo merita. Abbiamo letto la nota dell'ex vicesindaco Gianni Stornello. Grazie. Grazie. Grazie.